Passato il Natale si pensa al cenone dell'ultimo dell'anno, quindi noi andiamo in giro un attimino a curiosare per vedere che cosa viene preparato. Siamo venuti qui a Cattolica, uno dei ristoranti storici di Cattolica, per sapere quale sarà il menù dell'ultimo dell'anno. Stiamo preparando un cenone di Capodanno in una condizione piuttosto tranquilla, quindi con delle cose buone che fanno parte della nostra eccellenza, però senza strafare come si faceva negli anni trascorsi, quindi senza voler dimostrare nulla a nessuno, ma fare delle cose che possono essere la portata di tutti, perché la situazione attuale è quella che è e quindi cercare di far trascorrere una bella serata diversa, perché noi quest'anno anziché avere un'orchestra portiamo avanti una politica di far divertire la gente, farla ridere possibilmente, con un buon augurio per il prossimo anno. Un'anticipazione di quello che sarà il menù? Un menù con un antipasto caldo, un antipasto freddo, assaggi di primi e due assaggi di secondo che ci siamo inventati all'ultimo momento. Saranno diversi dai menù soliti nostri e cercheremo di stupire contenendo i costi, perché la gente oggi come oggi si trova in una situazione diversa e quindi dobbiamo cercare di andare incontro alla gente, ai giovani che noi ci teniamo a portare avanti questa politica. E dopo Cattolica siamo giunti qui a Riccioni, anche a Riccioni andiamo in un ristorante molto conosciuto, il Cristallo, e chiediamo anche loro cosa hanno in mente per l'ultimo dell'anno. Come tutti gli anni prepariamo sempre un menù per alietare le serate e cose, molto ricercato, particolarmente curato, e partiamo con un aperitivo di benvenuto, con delle bollicine e così. Poi dopo c'è un piatto di entrè che è formato con alice marinate, olive arance, salmone affumicato, aneto e limone, del tonno e prosciutto di patta negra. Poi dopo si parte con un antipasto, un antipasto che è composto di carpaccio, di mazzancolle, scottato, fuogra, pinoli e mostarda di cremona. Poi dopo come primo piatto abbiamo dei paccheri astice e tartufo nero, una cosina molto particolare, ricercata, che abbina sia terra che mare. Abbiamo un branzino al pepe nero come secondo, calamaretti, capperi e acetosella. E poi dopo abbiamo il piatto della tradizione, che è il zampone con delle lenticchie. La serata viene anche alliettata da un duo canoro, che tiene in movimento un pochettino la serata e di conseguenza facciamo tutti quanti gli auguri per un felice 2013. Rigorosamente con pronotazione, perché la cena verrà effettuata a numero chiuso, con un numero limitato di partecipanti, in modo da cercare di avere un servizio più curato ed efficiente. Buon anno a tutti e un felice 2013!